Il Responsible, come la Mayo Clinic negli Stati Uniti o il Centro Monzino di Milano, struttura d'eccellenza, insomma a rilievo internazionale per quanto riguarda la cardiologia. Questo è l'obiettivo di Severino Jesu, autorità indiscussa di cardiochirurgia, dal 1 ottobre a capo del Dipartimento dell'ospedale presieduto da Stefano Petracca. Insieme alla sua equip, che l'ha seguito a Campobasso, Jesu ha portato i ruggi d'Aragona sul tetto del mondo, poi la scelta politica del Presidente Commissario De Luca di sdoppiare il reparto e quindi raddoppiare i primariati. Il clima si è avvelenato, le condizioni per continuare a far bene e crescere non c'erano più. Al Molise il Professor Jesu si è presentato con i numeri, a cui va aggiunta una mortalità quasi nulla dopo interventi molto rischiosi. 30.000 interventi di cardiologia a cui in una qualche forma noi tutti abbiamo partecipato. Il primato per la chirurgia coronarica nel 2015-2016, il primato per la chirurgia dell'arco aortico, che è la forma più complessa di cardiochirurgia nel mondo, dico primato nel mondo, certificato a Boston. E poi non voglio annoiarvi, ma tante, 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 tantissime cose fatte con grandissima qualità. Due interventi al giorno da quando il responsabile del Dipartimento oggi sono tre numeri che descrivono un centro cardiochirurgico di medio-grandi dimensioni. Non sono arrivato nel deserto, ha detto Jesu, facendo riferimento al passato più o meno recente, ma anche al presente. A tutti i grandi professionisti che alle ex gemelli hanno operato e ancora operano. La mia aspirazione ha concluso e lasciare un sistema che possa fare a meno di me. Lo scontro con la regione sulla radioterapia, poi risolto, sembra lontano anni luce, ma erano invece pochi mesi fa. Ora Jesu e il suo dream team, primo step di un grande rilancio, ha detto il presidente Petracca, ma anche una collaborazione proficua col servizio pubblico. Gli emodinamisti dell'ex gemelli coprono i turni a Santimoteo. Gli anestesisti consentono la riattivazione della camera iperbarica a Larino. La crescita di Responsible come punto di attrattività, come centro di eccellenza, fa parte di un progetto di crescita di questa struttura. La cooperazione con la regione, che come vedete è chiaro, si vede, è visibile, che è cambiato il modus operandi e il livello di cooperazione. Questo deve essere la normalità. Grazie.